Non mi scrive più nessuno. Papbo, non mi cada in depressione. Dammi di tu. Il Natale quando arriva Riva. Vorrei cantare insieme a voi in magica armonia di carbo auguri con il coro e poi un coro in compagnia. E' già arrivato Natale. Ah, ecco perché sono tutti così buoni. E va bene, va. Buon Natale! Il Natale quando arriva Riva. Carlo? Vi alla Vistefani ci sbagliamo sempre. Cosa ne faccio di un panettone? Gli altri dove sono? Stanno impastando. Ma quante volte li impastano? Eh? Cinque volte. E questo è per Natalina. Se lo merita proprio c'è una pazienza con me. Oh, Babbo Natale! E' svegliata. Così restano più dolci e soffici. Ma siamo pazzi? Facciamo i panettoni con cinque impasti soli rassiduoto e addirittura il miele. Ma chi sono io? Babbo Natale? Eh? Un panettone morta Natale brillerà Un panettone morta Si accende la morta Mmm, come profice. Ma cosa stai mangiando? E' il panettone morta. È Natale. Ma va, se mancano 320 ore. Te ne vai? Eh sì, c'ho tanti bambini e nonnine che mi aspettano. E se ti offro una cosa? Eh, vado. E se il pepà era un caffè? Eh, il resto. Il Natale è la festa più bella se il caffè non è buono che il Natale è. Eh? Buono, buono. Buono così lo dice è solo il mio Nino. E' buono così lo fa solo la mia Natalina. Tanti auguri Natalina e tanti auguri anche a voi. Dalla Natalina. Da Nino e dalla Lavazza. Sì. Ma vedi che belliccia. Mi sono i frigeri io, cara. E la sua così vivacetta? Pensavo perde. Se giri un po'. Una meraviglia. Mi merito Corbisone, non ce sente. Provi come le gatti. Pesce. Sa cosa? Mi compro un supermercato intero. Esosa la patta turchina.